amici amanti del vino bentornati che cosa andremo ad assaggiare quest'oggi insieme non molto anzi dire proprio un bel nulla andiamo invece a recensire un prodotto estremamente utile per chiunque ami il mondo del vino che cosa lo scopriamo dopo la sigla eccoci per conoscere insieme il kit di aromi da vino bianco e vino rosso della tester place serve non serve il dibattito è sempre aperto tra gli amanti del vino sicuramente è un articolo però interessante questo che andiamo a provare oggi è se vogliamo un kit base 12 aromi per il vino rosso 12 per il vino bianco anche se poi in realtà l'azienda ha deciso di fare un regalino e inserire una tredicesima essenza legata al mondo degli aromi del vino bianco e quindi alla fine ci ritroviamo con 13 aromi di vino bianco e 12 di vino rosso ne parliamo perché perché molto spesso quando andiamo a far roteare la massa vinosa nel nostro bicchiere ci perdiamo un po tra gli aromi c'è chi ci sente il cuoio c'è chi ci sente il sottobosco ricordo perfettamente una delle prime degustazioni al primo livello del corso sommelier che feci dove addirittura ho sentito fiori di banano qualcosa di epico straordinario che personalmente non ho mai avuto l'onore il piacere di annusare ma sono molto invidioso della sommelier che fece questa descrizione non c'è il fiore di banano non è presente il fiore di banano nel kit di aromi di vino bianco ma ce ne sono comunque diversi molto interessanti molto utili piuttosto comuni nella maggior parte dei vini che andiamo normalmente a degustare e quindi è un ottimo strumento può essere anche un simpaticissimo gioco da fare con gli amici in una serata in cui vogliamo un po metterci alla prova chiaramente c'è la lista con tutti quanti gli aromi presenti nei campioni al fondo del libercolo che l'azienda inserisce a corredo dei campioni di essenze da annusare ma è sempre bene annusarli prima ragionarci un po su e poi andare a vedere se quello che ci dice il nostro apparato sensoriale è corretto oppure no molto interessante vi dicevo i libercoli inseriti all'interno del kit stesso perché sono fatti davvero piuttosto bene semplici sintetici ma piuttosto esaustivi ci approcciano un po all'analisi sensoriale del vino olfatto gusto percezione gustolfattiva anche il colore del vino anche qualche nota sul bicchiere più adatto per le tipologie di vino insomma un bel concentrato di informazioni oltre ad avere anche la possibilità di scaricare ben due ebook legati sempre a questo contesto abbinamento cibo vini e quant'altro davvero molto utili quindi che cosa vi posso dire ve lo consiglio sì mi sento di consigliarvelo perché è un regalo che sicuramente chi ama il mondo del vino apprezzerà e può essere un utile strumento di allenamento quindi un modo per studiare confrontarsi con se stessi allenare i propri sensi diverso rispetto a un altro tipo di regalo i libri sono sempre un regalo fantastico per chi ama il mondo del vino ma magari non c'è mai troppo tempo per leggerli una bottiglia è sempre un regalo eccezionale questi kit per aromi in commercio ne trovate tantissimi certi superano anche le 300 euro e le 80 essenze sono sicuramente molto validi questi due della tester place sono sicuramente degli strumenti interessanti per mettersi in gioco e sfidare un po i propri sensi io sono raffaello de crescenzo il vostro cultura agroalimentare e se hai gradito questo video ti invito a lasciare un like di sostegno e iscriverti al canale qualora non lo avessi già fatto in descrizione trovi anche tutti gli altri miei canali social nel primo commento ti lascio anche un mio articolo proprio su che cosa regalare a un amante del vino tutta una serie di consigli e suggerimenti che penso potrai trovare molto utili nel caso in cui tu dovessi fare un presente ad una persona che è coinvolta amante appassionata di questo mondo e ricordatevi sempre non c'è degustazione senza la riscoperta dei propri sensi a presto